La settimana scorsa abbiamo avuto ospite l'assessore Massimo Giaconia, il quale ha ufficializzato che il bilancio triennale è stato esitato dai revisori dei conti e passato al vaglio della prima commissione che poi lo passerà alla votazione e al vaglio del Consiglio Comunale di Caltagirone. Stasera abbiamo il benvenuto a Mario Polizzi, componente della prima commissione consigliare che avete già cominciato ad esaminare il provvedimento del bilancio riequilibrato 2012-2016. Buonasera ai telespettatori, grazie per l'invito. Il bilancio quinquennale è stata ripresentata da parte dell'amministrazione comunale l'ennesima proposta di delibera, l'ennesima proposta di delibera con una differenza sostanziale che è questa proposta di delibera. Dopo due giorni che è stata presentata ha avuto il parere favorevole da parte dei revisori dei conti. Un parere favorevole alla fine, ma dobbiamo dire un parere molto articolato. Hanno presentato una relazione di 66 pagine e nel colpo della relazione chiaramente si evidenziano, scrivono chiaramente che ci sono comunque delle perplessità. Scusami, che vuol dire? Non sono stato chiaro. No. Non sono stato chiaro. Spero io ti hai capito male. Sì, è successo proprio questo, che è il revisore dei conti. Scusami, è stato esitato il provvedimento da parte del revisore è passato? Il provvedimento da parte del revisore, quindi non ci sono perplessità. Non ti esplicito meglio il concetto, sicuramente sono stato poco chiaro. I revisori hanno espresso un parere con una relazione. La relazione è formata da 66 pagine. Nel corpo di questa relazione è stato chiaramente detto che pur avendo delle perplessità esprimono un parere favorevole. Ora entro nel merito della questione. Esprimono un parere favorevole perché questa è l'unica soluzione possibile. Intanto vorrei fare una premessa perché si corre il rischio di dare per scontato delle cose quando in effetti scontate non sono. Noi arriviamo alla quarta proposta di delibera, ma sono d'accordo con l'assessore Giaconia quando dice che non sono importanti quante delibere che si fanno, ma è importante raggiungere l'obiettivo. In questo mi trovo d'accordo. Avrei da ridire sicuramente sui tempi, sul fatto che è passato un anno e un mese, ma sulla quantità di delibere ci sta. È altrettanto anomalo che ad ogni delibera c'è stata una propaganda, nel senso una grande comunicazione in senso mediatico, questo è un po' anomalo. Però è chiaro che quando si fanno provvedimenti che sono migliorativi per raggiungere l'obiettivo ci può anche stare. Qual è la quarta delibera che è arrivata? Noi dobbiamo ricordare che c'è stata una prima delibera presentata all'inizio di novembre dell'anno scorso, che era uno schema di bilancio che tra le altre cose non era previsto neanche nella normativa. C'è un qualcosa che non serviva a nulla se non a fare solo ed esclusivamente un comunicato stampa. Poi un'altra delibera che è stata quella decisamente più impegnativa alla fine di novembre, è questa della fine di novembre che fu presentata proprio anche in commissione, poi si bloccarono i lavori perché con i colloqui che avevano avuto col Ministero, il fatto che era intervenuta una nuova normativa fu bloccata e successivamente ritirata e poi la delibera 61 del 10 aprile di quest'anno. La delibera 61 del 10 aprile di quest'anno, quindi presentata qualche mese fa, è rimasta in commissione due mesi e mezzo per aspettare il parere dei revisori. I revisori di fatto sulla delibera 61 non hanno espresso nessun parere. Se non i primi di luglio l'amministrazione ha presentato una nuova delibera che è migliorativa della delibera 61 dove i pareri in due giorni hanno espresso materialmente il parere. Quali sono gli elementi importanti? Questa è una storia fatta un po' velocemente, poi possiamo entrare nel merito, ci possiamo trattenere, anzi se hai la necessità di interrompermi per approfondire determinate cose, ma solo nel tentativo di essere più chiaro con i nostri telespettatori, io sono ben lieto oltre che disponibile. Qual è la caratteristica di questa ultima delibera? La caratteristica di questa ultima delibera è che l'amministrazione dice che per migliorare la delibera 61, quella presentata nei primi di aprile fa questa nuova proposta, questa nuova proposta che è frutto di una serie di interlocuzioni che ci sono state che noi revisori e dove i revisori presentano un parere e alla fine questo parere risulta favorevole. Entriamo nel merito della questione, noi siamo un comune come sappiamo dissestato, dove i comuni che sono in dissesto vengono disciplinati da una norma che è il 259 del Tuel, dove stabiliscono che il riequilibrio per i comuni dissestati deve avvenire in 5 anni. Un riequilibrio che prima doveva avvenire in 3 anni, poi la norma è cambiata in 4 anni per venire in aiuto ai comuni come noi, infatti Nicola Bonanno prima e il commissario dopo non sono riusciti ad riequilibrarlo perché non c'erano nei tempi materiali per poter riequilibrare il disavanzo che si viene a creare soprattutto nel primo triennio, in modo particolare nel 2012, anzi poi nel 2012, 2013, nel 2014 e poi la norma dà la possibilità ai comuni di equilibrare in 5 anni. Noi che siamo comuni in dissesto dobbiamo riequilibrare questo debito in 5 anni, noi abbiamo un disavanzo di 6 milioni di Euro, questo disavanzo di 6 milioni di Euro, l'amministrazione lo riequilibria in per noi 6 anni perché praticamente prevede un rientro che avviene negli anni 2015-2016 che fanno parte del quinquennio e ben 3 milioni di Euro nel 2017. Noi pensiamo che questa è una violazione della norma, io penso che sia una violazione della norma e in questo aspetto ci sta anche la perplessità dei revisori, infatti quando dicevo che i revisori nel corso della relazione dicono chiaramente che pur avendo delle perplessità questa è l'unica strada percorribile, quindi fanno un giudizio che è meno tecnico e più politico per poter riequilibrare il bilancio, quindi ammettendo che 5 anni non bastano a riequilibrare ma che ce ne vogliono 6, di fatto è una violazione della norma perché si rifanno alla legge 188 che non può essere applicata per i comuni che si trovano nello Stato come quello nostro, ma questa è la prima nomadia che è la più grande, ma nel merito poi della questione cosa c'è? L'amministrazione dice che la delibera 61 viene migliorata a seguito di una serie di interlocuzioni che si sono avute con i revisori, ora i revisori sono organo a tutela del Consiglio Comunale, loro debbano interlocuire col Consiglio Comunale, è proprio il mandato dei revisori, è la norma principale nella nomina dei revisori. Questa interlocuzione con l'amministrazione comunale che capisco in un momento come questo si può chiedere collaborazione, che siamo in una condizione di difficile, che noi stiamo per fare presto e fare bene, che dobbiamo raggiungere l'obiettivo del bilancio, chiaramente ci può anche stare, ma per come sono andate le cose, per come si vede negli atti, questa interlocuzione che ha portato ad avere una nuova delibera è come se di fatto il bilancio non l'ha fatto l'amministrazione comunale, è come se il bilancio l'avessero fatto gli stessi revisori, perché nel momento in cui la delibera 61, scrivono i revisori proprio nella loro relazione, non può essere assolutamente, non si può esprimere parere nella delibera della sanzione 61 per una serie di irregolarità che ci sono, ma al primo punto c'è perché i bilanci non riequilibriano, che è condizione fondamentale per non poter esprimere un parere e che a seguito di tutta una serie di interlocazioni c'è la necessità di fare una nuova proposta di delibera, è chiaro che da queste continue interlocuzioni nasce un nuovo provvedimento, i creatori di questo nuovo provvedimento sono i revisori, quindi un plauso non all'amministrazione comunale, ma eventualmente ai revisori dei conti, però attenzione che questa cosa chiaramente ci mette in enorme difficoltà, perché se è stato fatto un provvedimento in continua collaborazione, un po' si vengono a creare una sorta di mancanza di ruoli, cioè che l'organo controllore, cioè i revisori, che è lo stesso che in qualche modo l'ha redatto, non è più elemento di garanzia per il Consiglio Comunale stesso, allora io dico tutte queste cose che sono dubbi che io sto esternando in questo momento in televisione, che sono dubbi che già è stato motivo di riflessione col gruppo consigliare che stasera rappresento e che rappresento nella prima commissione per la città che vogliamo, è chiaro che domani che si riunisce per la seconda volta la commissione bilancio avremo modo di approfondire, domani li approfondiremo con gli uffici prima, li approfondiremo con i revisori dei conti che sono presenti, perché un bilancio che viene fatto passo dopo passo, amministrazione e revisore assieme, la funzione di controllo a mio avviso può venire meno e quindi quella condizione di garanzia nei confronti del Consiglio Comunale a cui i revisori debbono rispondere sicuramente può venire meno e quindi può venire meno nei confronti della città. Perché dico questo? Perché al di là del riequilibrio e al di là dell'interpretazione normativa che non è secondaria, noi dobbiamo ricordare quali sono i passaggi per avere un bilancio approvato, per poter la città finalmente dotarsi di un bilancio, i passaggi li hai accennati tu velocemente prima, sono una delibera di giunta che c'è, la trasmissione in Consiglio Comunale, il parere dei revisori, il parere della commissione, la votazione in Consiglio Comunale e per ultimo il parere del Ministero. Se noi già arriviamo con un'interpretazione della norma che non è un'interpretazione lineare, che non è un'interpretazione consona alla situazione in cui si trova il nostro Comune, è chiaro che corriamo un grande rischio, quello che questo bilancio venga bocciato, che ci siano delle osservazioni da parte del Ministero e quindi un'ulteriore perdita di tempo. Io Pino se mi permetti vorrei fare anche un'osservazione legata qualche mese fa, un anno fa, io questa cosa già l'ho detta, credo di averla detta perché ne sono fermamente convinto, io ritengo che chi amministra deve fare dei riferimenti inevitabilmente al passato, deve guardare il futuro perché deve avere questa grande capacità, però si deve preoccupare, indipendentemente da quello che è successo prima, comunque di governare il presente. In campagna elettorale, ora non voglio tornare indietro per motivi polemici, ma lo dico proprio per onestà perché questa cosa mi sta fuori, in campagna elettorale io ritengo che questa compagine politica, il Sindaco Ioppolo, ma soprattutto l'assessore Giaconia, per quanto riguarda i conti si sono molto concentrati fino al 2011, loro di fatto non hanno, penso per strategia politica, non hanno assolutamente esaminato, studiato, elaborato soluzioni per quello che era successo dal 2012 in poi, quella mia non vuole essere una critica all'amministrazione Bonanno, dico semplicemente che chi si è accingiato ad amministrare si deve preoccupare di amministrare quello che ho detto prima, la condizione al momento, la condizione che doveva essere amministrata in quel momento, ormai c'era il dissesto, quindi fino al 2011 ci pensava, infatti non sto facendo valutazione politica assolutamente, fino al 2011 ci pensava all'organismo di liquidazione, dal 2012, 2013, 2014 si doveva preoccupare la nuova giunta, allora è chiaro che volevi fare delle riflessioni fino al 2011 fallo, avevano una valenza politica, aveva una funzione anche elettorale, ma tu che ti accingi ad amministrare la città dovevi avere quantomeno un quadro di insieme dal 2012 in poi, questo hanno dimostrato che non l'avevano, dimostrazione ne è che è passato un anno per presentare una proposta di delibera semi credibile, perché semi credibile? Perché al di là del fatto che i conti bilanciano, come dicono i revisori, fanno riferimento a una violazione normativa come ho accennato prima che permette di riequilibrare in 6 anni, di fatto si riequilibra in 6 anni, dico che c'è stata un'altra forza politica che si era conditata con responsabilità da amministrare, che aveva detto, guardate che la nostra situazione è molto difficile, ma molto difficile, che l'unico modo per poter riequilibrare i conti già si diceva in campagna elettorale, l'unico modo per riequilibrare i conti, gli unici modi per riequilibrare i conti sono due, la prima e ci furono grandi polemiche, che arrivi un regalo da parte delle istituzioni superiori alla nostra, così come è stato fatto in altri comuni, così come è stato fatto in altri comuni e mi ricordo che questa cosa creò grandi, però voglio dire quella fu una soluzione perché sapevamo che c'era una difficoltà, la seconda quella che ci sia una modifica normativa che permette di riequilibrare in più anni rispetto a quelli che c'erano in quel determinato momento, io credo che poi alla fine siamo arrivati là, perché nel momento in cui si fa riferimento a una norma che ti permette di andare nel 2017, quindi che hai bisogno di un sesto anno, è chiaro che tu stai artificiosamente utilizzando la norma per fare riequilibrare il bilancio, io dico che c'era qualcuno che già lo dicevo un anno fa e sono d'accordo con Giaconia quando dice che la quantità delle delibere sicuramente non sono importanti, è importante raggiungere l'obiettivo, ma la responsabilità politica di aver perso un anno sicuramente questa amministrazione ce l'ha tutta, cosa si doveva fare se noi, se avessero studiato durante la campagna elettorale, si doveva fare una cosa molto semplice, coinvolgere tutte le forze politiche, tutta la deputazione nazionale e regionale di tutte le forze politiche e dire guardate che la situazione è questa, noi per uscire fuori da questa situazione abbiamo inevitabilmente bisogno di un intervento da parte dell'istituzione superiore alla nostra, o un intervento economico oppure un intervento legislativo. Che sarebbe il terzo? Sì, situazione certo. Sì, ma tu hai 4 da 4 a 5 e ora da 6? Ora 6 è un'interpretazione della norma, io credo che questa al Ministero non possa passare, invece lì una cosa che proprio materialmente la norma dava la possibilità di farlo, non so se le istituzioni, se i nostri referenti regionali e nazionali erano in grado di portare avanti questa istanza del territorio, però so che siamo l'unico comune che ci troviamo in questa situazione, per cui probabilmente qualcosa che potesse salvarci a livello centrale poteva anche nascere, poteva anche esserci. C'è stata la supponenza, c'è stata la forza dei numeri, c'è stato il fatto di essere autosufficienti, c'è stato il fatto che sul bilancio già dai primi giorni si è fatta molta propaganda, è passato un anno e la città è rimasta paralizzata per un altro anno, aspetteremo speranzosi altri 3 mesi. Io ho un'ultima, non un'ultima battuta, una battuta poi possiamo continuare. In commissione, venerdì, che c'è stato l'assessore Giaconia che ha presentato questa nuova proposta di delibera, insieme ai revisori dei conti, nonché ai componenti della prima commissione e anche ai capigruppo, quindi di fatto già c'era mezzo consiglio comunale, ha argomentato dicendo, io evidenzio i punti di accordo con l'assessore Giaconia, è giusto così come Marco i punti di disaccordo, dove ha detto che secondo lui c'è qualcuno che spera che il bilancio venga bocciato a Roma e chi pensa questo è un disgraziato, in questo io sono in sintonia con l'assessore Giaconia, perché io penso che nessuno speri che il bilancio venga bocciato a Roma. Io però dico che rimetterà alla speranza la possibilità che il bilancio venga approvato al Ministero è altrettanto da disgraziati, io ritengo che il bilancio è uno strumento tecnico, uno strumento contabile, io che ho una cultura tecnica, la cultura tecnica è sì, no, bianco, nero, rosso, verde, acceso, spento. Non grigio. Non grigio. I ragionamenti e le sfumature di grigio appartengono un po' alla politica, alle discussioni, alle conversazioni. Ma non ai regissori dei conti? Ma non a un organo tecnico. Mi è passo di capire giusto. Mi fa piacere che se tu sei intervenuto nel mio ragionamento, mi fa piacere che tu sei intervenuto perché io volevo trasmettere proprio questo. Quelli sono professionisti, voglio dire. E' come dire che io mi rivolgo a un medico, mi dà delle sentenze, un avvocato mi dà delle sentenze. Le misure dei conti non possono approvare con riserve. E' come se io costruissi un ponte nel momento in cui dovrei collaudarlo, dico spediamo che non progli. Io dico, siccome voglio non essere additato e disgraziato dall'assessore Giaconia, voglio augurarmi che fortemente la città esca fuori da questo pantano. Io lo dico sinceramente, per cui tifo perché seppur con tutte le riserve, seppur con tutti i grigi, una volta per tutta la finiamo. Guarda Pino, questo è pensiero comune. Quello che dici tu, io penso che se noi potessimo intervistare tutti gli abitanti di Caltagirone, da chi ha 0 anni a chi ha 110 anni e da tutte le parti politiche, da tutte le sensibilità, dagli arrabbiati, dai non arrabbiati, dai proioppolo ai controioppolo. Non c'entra questo. Esattamente. Tutti siamo d'accordo che il bilancio è uno strumento importante e vogliamo che sia approvato. Qual è la preoccupazione? Ed è quella che io rassegno qui, quella preoccupazione. La preoccupazione è che un bilancio basato su un'interpretazione normativa errata rischia di farci perdere ulteriori 4 mesi. Io non posso sperare che il Ministero mi approvi il bilancio. Io dovevo arrivarci là con la certezza che il bilancio venga approvato. Questa è la preoccupazione che io manifesto e che io esterno. Dopo un anno noi non possiamo rimettere tutte alla speranza. Chiaramente io mi auguro che il lavoro che sarà fatto in Commissione, gli approfondimenti che ci saranno, anche il dibattito in Consiglio, io penso ancora prima di arrivare nel dibattito in Consiglio perché già quando si arriva in Consiglio il dibattito è importante, uno può anche cambiare opinione in Consiglio, però la parte istruttoria è in Commissione. Io spero che in Commissione arrivino rassicurazioni diverse. Da quello che abbiamo finora letto e studiato, chiaramente la preoccupazione continua ad esistere. Questo è quello che io dico, quello che manifesto. Io devo fare una piccola osservazione che in questi giorni mi ha fatto un po' pensare. Io credo che su questa vicenda del bilancio voglio Dio veramente che usciamo fuori da questo Pantano perché si sta perdendo il lume della ragione e quando anche figure apicali che dovrebbero essere asettiche, che dovrebbero essere tecnici scendono nel lagone delle valutazioni riguardo a questa ipotesi di bilancio riequilibrato che sta per approdare in Consiglio Comunale seppur con tutti i buoni auspici. Però mi lascia un po' perplesso perché io vorrei che ci fosse veramente un punto fermo su questo perché non ci fossero relazioni, non ci fossero intendimenti diversi perché una città così come si trova oggi, tecnicamente nessuno, soltanto degli sconsiderati potrebbero alimentare ancora questo disastro. Solo le sconsiderate. Voglio soffrire che ha fatto senso perché su Facebook ho visto qualcuno che ama scrivere, ho visto la gioia del consigliere comunale, della consigliera comunale Elisa Privitera che salutava, ma dal suo osservatorio può anche starci. Ma quello che mi ha lasciato perplesso è il segretario generale, la dottoressa Ferro, che assume una posizione, fa una valutazione sul suo profilo personale di carattere politico e amministrativo di questo provvedimento. Ma io voglio dire, ma quando si è visto mai che un segretario generale prenda posizione di carattere politico e amministrativo, ma faccia ognuno il proprio lavoro e lo faccia ognuno nella propria dimensione e per chi ha un ruolo pubblico ufficiale e nella fattispecie l'apicale per eccellenza del Comune di Caltagirone, neanche il suo profilo personale può essere utilizzato. Nei pur parler, in piazza può anche starci, ma ufficialmente io credo che sia inopportuno. Qui veramente bisognerebbe che si fecesse uno sforzo tutti assieme per cercare di svolgere il proprio ruolo e non fare invasione di campo. A maggior ragione quanto questo non compete, quanto questo può essere letto diversamente, certamente con tutte le buone intenzioni, però il segretario generale deve lavorare all'interno della macchina burocratica comunale, deve garantire che tutti gli atti siano legali, che siano ineccepibili, ma non già brindare, metaforicamente voglio dire, per atti che hanno una valenza politica oltre che amministrativa. Mi sembra improprio. Io spero soltanto che questo sia un periodo di caldo per cui, come riscaldano qui in televisione per esempio le apparecchiature, le telecamere, voglio dire, anche la natura umana può avere delle spinte, delle dinamiche diverse. Ma io credo che ognuno debba ritornare al proprio ruolo. Il ruolo del sindaco è quello del capo dell'amministrazione, solo a lui compete, solo a lui e a chi ha la delega parlare ufficialmente di alcuni atti, che siano di natura finanziaria o che siano di natura strutturale del comune, della viabilità o quant'altro. Ognuno svolga il proprio ruolo. Il segretario generale deve stare nel sottotraccia. È la persona più importante apicalmente a livello dirigenziale del comune. E non già si può mettere nel lagone della dialettica o del confronto politico. Ma veramente non ci stiamo più capendo niente. Non so Mario se tu condividi questo, però io ho letto. Ma ripeto, che lo faccia qualche consigliere comunale. Ci sta. Ognuno ha una valenza e una coltura di appartenenza partitica. Vi va a dire al segretario generale, dai, lavori e basta. Lavori e basta. Io non seguo molto la rete. Ma neanche io, figurati, mi limito a leggere. Mi limito a leggere. No, io non ho neanche il profilo Facebook, perché a volte mi sembra che qualcuno se Facebook rappresenta tutta la totalità delle cose, però in questo mi devo riconvertire. Io credo molto nella libertà di pensiero e nella libertà di parola, però credo anche che c'è un profilo di opportunità. E' chiaro che soprattutto nella fase in cui ci troviamo, chi occupa tra le altre cose ruoli di responsabilità, però come dirigente è chiaro che il passaggio di la confusione del ruolo tecnico con il ruolo politico chiaramente deve essere decisamente evitato. Sull'opportunità credo che non ci siano dubbi, condivido il tuo ragionamento e se è così come tu hai detto, ripeto, e non ho dubbi, visto che l'hai letto direttamente, visto che è una notizia di prima mano, è chiaro che il profilo dell'opportunità deve essere presente, così come anche il taglio nell'interlocuzione fra l'amministrazione, fra un amministratore diretto, un assessore o il sindaco, rispetto a un consigliere comunale deve essere diverso. Il consigliere comunale comunque rappresenta una parte, l'amministrazione una volta eletto rappresenta tutti, gli interventi nelle comunicazioni, le risposte alle comunicazioni, l'interlocuzione con i cittadini, da parte di un amministratore non può essere faziosa, l'amministratore deve essere cordiale, collaborativo, comprensivo, una grande capacità di ascolto. Il consigliere può essere nel ruolo stesso un tantino più partigiano, io penso che l'amministrazione anche in questo senso a volte perde la capacità di interleguire da amministratore, a volte ancora è partigiana, nel senso che determinati atteggiamenti anche in consiglio sono a mo' di propaganda politica e non di propaganda amministrativa delle cose realmente fatte o quella grande capacità di ascolto, di cogliere suggerimenti per poter fare bene e meglio. Assolutamente d'accordo con te, ma ripeto, probabilmente ci vuole un abbassamento dei toni generali, io credo che la città abbia bisogno di tanto e di tutti, di tanto e di tutti, proprio in una situazione in cui… Chiaramente non ha rispetto dei ruoli. Assolutissimamente, non mi sta bene neanche alcuni assessori che in modo proprio fanno le veci a nome dell'amministrazione, ma per le proprie pertinenze, ma voglio dire non ti puoi allargare oltre misure. C'è un capo dell'amministrazione che ha facoltà di farlo. L'invito all'inaugurazione, a intervenire, lo fa il capo dell'amministrazione, non lo fa già… tu quando eri assessore di Pignataro ti permettevi di… ma voglio dire… no, 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 io dico quell'esperienza dove ognuno di noi era un musicista e avevamo un bravissimo direttore d'orchestra. Va bene, d'accordo, ma questo non vuol dire, però credo che ognuno debba stare nel proprio ambito. È così. Ognuno deve stare nel proprio ambito, ma proprio per la delicatezza del momento che stiamo attraversando. perché troppo parlare c'è, troppa voglia di protagonismo, troppa voglia di mettersi in primo piano, finalizzata a che cosa? Non lo so, non lo so. Probabilmente ognuno ha il proprio fine, il proprio scopo, però, ripeto, in questo momento non giova, oggi ci vuole un lavoro di concordia, assonante, di sinfonia attorno al sindaco. Non ci possono essere sbavature, perché quando ci sono sbavature, tipo i cani, i quattro cagnolini, stanno facendo ridere il mondo, anche se non se ne sta parlando più, no? Ma nei gruppi dei bar o delle cose si parla e questi sono stati enfatizzati, voglio dire anche qui basta, è successo, si è dimesso, sta lontano dall'amministrazione, per cui c'è il distinguo, a maggior ragione che ci sono sviluppi, perché altrimenti veramente qui tifiamo. E allora aggiungo di più, perché ci scandalizziamo per i quattro cagnolini e giustamente facciamo tutta la bagarre del mondo al punto di chiedere dimissione a un assessore e non ci scandalizziamo per esempio, e non chiediamo le dimissioni di chi è responsabile perché vengono maltrattati gli alberi o tagliati alberi o quant'altro. Voglio dire, la sensibilità degli animali è uguale a quella vegetale per quanto mi riguarda. Il rispetto vale alla stessa maniera e il metro di misura deve essere sempre lo stesso. Non può essere alterno, non può esserci la legalità oggi in un modo e poi voltarsi dall'altro lato sol perché non si sa come intervenire per garantire la legalità, tu occorre. Se uno intraprende giustamente la strada della legalità, quella la sapersevera sempre, ci si corazza, ci si anima di qualsiasi copertura e si persegue in tutti gli angoli, in tutti gli angoli. Non si può predicare bene a giorni alterni, questo voglio dire. E' inutile che spiego, lo più magari capiterà nelle prossime sere di essere un po' più chiaro, ma non è possibile che la città ha la macchina che fa le contravvenzioni e mi sembra giusto. E poi di vedere d'altrove che invece ci sono illegalità diffuse. La via infermeria è un'arteria principale ed è sempre ostruita, sempre in difficoltà, sempre il corso ferraio e la scalinata è sempre tagliata dal posteggio di autovetture e camion. Questa è illegalità. I marciapiedi sono coperti e non ci si può girare dall'altro lato. Non ci si può girare dall'altro lato. E potrei continuare ancora con una lunga sequela. Allora, se legalità ci deve essere, ci deve essere per tutto. Io sono d'accordo che sul fatto... Però ci stiamo divulgando. Sì, sono una battuta finale anche perché... Scusami se ti ho un po'... No, no, no. Tu hai citato diverse cose che sono spunti di riflessione e sicuramente ci vorrebbe molto tempo. Però condivido il fatto che ci deve essere un senso civico che dovrebbe caratterizzare tutti i cittadini, chiaramente. Quella sensibilità nei confronti della natura, quella sensibilità nei confronti degli animali. E se uno ha queste sensibilità, poi è normale fare la raccolta differenziata, è normale pasteggiare in una maniera corretta, diventa tutto normale se uno ha proprio la sensibilità al bello, la sensibilità al giusto, la sensibilità all'ordinato. È chiaro che questo deve essere fatto anche con strumenti non necessariamente repressivi o non sempre repressivi. Prima ci vuole un buon livello anche comunicativo. Quindi ritengo che quello che hai detto tu è chiaro. Io volevo ritornare a proposito di quello di essere un po' un'amministrazione che, come tu mi è sembrato di capire, dal tuo sfogo, un'amministrazione che in qualche modo non è coordinata, quasi come se... Non mi sembra questa. Non mi sembra questa. Infatti quando tu hai fatto riferimento alla mia esperienza passata, non a caso ho utilizzato un parallelismo con quello dell'orchestra, dove ci sono i musicisti e dove c'è un direttore, dove il direttore non è assolutamente capo dell'opposizione, ma è colui che raccoglie tutte quelle che sono le sensibilità, che sono le problematiche, che sono le diversità e fa fare uscire quella che è la giusta melodia. Questo mi sembra chiaro. E ognuno deve fare la propria parte. Il musicista deve fare la propria parte, il coordinatore deve fare la propria parte. Effettivamente questo vuoto, questa mancanza di comunicazione, questo andare ad ordine spasso, chiaramente si registra, è evidente. Ed è chiaro che questo non è conducente a una buona attività amministrativa. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Grazie a Mario Polizzi, consigliere comunale del gruppo, come si chiama la città? Per la città che volete. Per la città che volete e che vogliamo. Speriamo che sia la città che vogliamo. Grazie Mario, alla prossima. Grazie a te, buonasera. Chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortesa attenzione, l'appuntamento con stasera con il giovedì prossimo alle 21.15 circa. Buon proseguimento e buona serata.